Grazie a tutti. 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 nel teatro civico, il mio nuovo progetto con cui questo ha girato tantissimo tra Giappone, Asia e Sud America. The Crossing, l'incrocio, musica completamente diversa, per chi mi conosce, tra elettronico, nuove ritmiche, con un gruppo straordinario, con Pasquale Mira Brafono, Rosa Brunello al basso elettrico e Marco Frattini in batteria. E sarà un mix davvero sorprendente, perché misceleremo suoni balinesi con hip hop, drum and bass e tante altre cose. Comunque è inutile che ve lo spieghi, venite a vedere il concerto 2 gennaio. Ciao! Dunque l'appuntamento è per questa sera al civico con Enzo Favata. Chiudiamo l'edizione del nostro telegiornale con lo sport, perché c'è stato un grandissimo successo al torneo di doppio natalizio, scusate, del tennis club al Ghero, perché circa 50 soci si sono affrontati, divisi in due gironi, Gold fascia alta e Silver la fascia intermedia. Nel tabellone Gold vittoria, della coppia formata da Giuseppe Calise e Luciano Dettori, che in finale hanno battuto per 6-2 la coppia Matteo Sori e Daniele Riù, dopo una partita decisa da due break in apertura. Nel tabellone Silver vittoria, un po' sorpresa per la coppia Gennaro Monte e Donatella De Logu, che in finale hanno battuto con un break decisivo per 6-3 la coppia formata da Beppe De Sia e Francesca Carboni. Ottima affluenza di pubblico nella due giorni di gioco, a seguire le premiazioni dei due tabelloni e il terzo tempo con un'arrostita finale aperta a tutti i soci. Adesso l'appuntamento è per i primi di febbraio, quando ripartirà il torneo sociale a squadre di singolo, che è giunto ormai alla 43esima edizione. E dunque il tennis chiude l'edizione di oggi del nostro telegiornale. Io come sempre vi ringrazio per averci seguito. Arrivederci.